Se non fosse che l'ordinanza è vera e a chi affirmarla è stato il sindaco di ospedaletti Paolo Blancardi il 31 dicembre scorso, si potrebbe pensare a un pesce d'aprile. Blancardi ha infatti disposto il divieto di attività nei cantieri adiri di ospedaletti dal 20 dicembre al 6 gennaio, la settimana precedente e quella successiva alla Pasqua e ancora dal 1 luglio al 31 agosto. Il documento pubblicato nell'albo pretorio del comune è motivato dalla necessità di garantire una maggior tranquillità ai turisti nei periodi di maggior affluenza ma è chiaro che non tarderanno proteste polemiche da parte di artigiani e imprese adiri già messe a dura prova dalla crisi del settore. Il primo cittadino dal canto suo nell'ordinanza ha specificato che la decisione è stata adottata a seguito delle numerose lamentele giunte al suo ufficio e a quello della polizia municipale per i rumori e le polveri causate dai cantieri adiri. Grazie per la visione! Grazie per la visione!